la programmazione di Cosmo Radio Taurasi la radio web senza censura e senza scopo di lucro una radio autofinanziata che aglietterà le vostre serate con programmi di politica, musica, sport e tanto altro non perdete le nostre dirette Cosmo Radio la vostra voce fuori dal coro mettetevi comodi lo spettacolo sta per cominciare il più grande spettacolo dopo il Big Bang il più grande spettacolo dopo il Big Bang il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi Cosmo Radio Taurasi libera, critica, indipendente e senza censura la tua voce fuori dal coro Cosmo Radio Taurasi libera, critica, indipendente e senza censura la tua voce fuori dal coro Amici di Cosmo Radio Taurasi Auguri, auguri, auguri Per un sereno Natale Da trascorrere in compagnia Dei vostri affetti più cari Auguri per un nuovo anno Ancora più strepitoso Dal vostro Cosimo Pucillo E da tutta la redazione occulta Di strumenti e contorni Non dimenticate La musica è sempre intorno a voi Non bisogna fare altro Che ascoltarla Amici all'ascolto siamo alle news di venerdì 9 dicembre Le basse temperature notturne Hanno causato disagi lungo le strade collinari Dell'Irpinia Persino sui binari Nella tratta che interessa Il territorio di Ariane Irpino Un treno merci proveniente da Roma Diretto a Melfi E' stato costretto a rallentare La sua corsa proprio causando Ritardi alle corse dei treni dei pendolari Un'azienda per la produzione Di acido citrico Dichiarata fallita nel 2002 E' stata sequestrata dai carabinieri Su ordine della procura di Avellino Che ha notificato informazioni di garanzia A quattro amministratori Che rifiutavano di effettuare Rimozione e smaltimento Dei rifiuti speciali Abbandonati all'interno dello stabilimento Nell'area industriale di Calitri Ladri in azione durante il Ponte dell'Immacolata A Paternopoli A Montoro Dove sette persone Di Salerno e Napoli Sono state bloccate e allontanate Con foglio di via Persino nella chiesa del Santissimo Rosario A Mirabella e Clano Qui hanno rubato un crocifisso in metallo Posto sull'altare E un cuore con spada in ottone Dalla statua di Maria Santissima addolorata Il gruppo di giovani ideatori E realizzatori del tour Il Pino Irpino Ha vissuto anticipando la tappa finale Del progetto di quest'anno La giornata dell'Immacolata A Castel Sant'Angelo sul Nera Il percorso ha l'obiettivo di finanziare La ricostruzione di un bene di pubblica utilità Nel paesino marchigiano terremotato E continua a tremare l'Appennino Un sisma di magnitudo 4.0 È stato registrato alle 8.21 A 8 km di profondità Epicentro localizzato fra Villa Minozzo Reggio Emilia E Frassinoro Modena È avvertito in tutta la fascia appenninica Fino in Toscana Ieri una scossa di magnitudo 3.6 Sette si è verificata alle 22.21 Al confine fra Abruzzo e Marche Epicentro localizzato su Valle Castellana In provincia di Teramo Dopo oltre 5 anni di indagini E decine di consulenze tecniche È stata archiviata a Bologna L'inchiesta sulle frane Nelle aree appenniniche Interessate dagli scavi per realizzare Le gallerie della variante di valico Dell'autostrada A1 Opera inaugurata a dicembre 2015 L'indagine era nata nel 2011 Dalle denunce di un comitato di residenti Nella zona di Ripoli Nel comune di San Benedetto Val di Sambro Che avevano segnalato danni Alle proprie abitazioni In concomitanza Con i lavori per l'autostrada Che varia il tracciato Tra Bologna e Firenze Abbiamo concluso anche per questa edizione E buon proseguo con i programmi Di Cosmo Radio Taurasi Tutto lo staff De ilmeteo.it Vi augura di trascorrere Un bel weekend Previsioni per sabato 10 dicembre 2016 Bel tempo generale Ma nebbia al nord Cielo poco parzialmente nuvoloso Invece sul resto del paese Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it Al nord foschie e nebbie Spesso per tutto il corso della giornata in pianura Cielo più coperto sulle coste friulane Ampio soleggiamento invece sui settori alpini e prealpini Spostiamoci al centro Nebbie in Toscana e Umbria Bel tempo invece sul resto delle regioni Raggiungiamo infine il sud Qualche foschia mattutina Sul Gargano qualche addensamento in Sicilia E sul resto del Salento ma innocuo Per il resto bella giornata di sole Con cielo poco nuvoloso I venti saranno a prevalente direzione settentrionale Concludiamo con le temperature previste per questa giornata Le minime risultano essere più o meno stazionarie Valori compresi tra meno 3 e 13 gradi su tutte le regioni Di giorno invece prevediamo 3-14 gradi al nord 6-13 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud Il meteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook Così da rimanere sempre aggiornati sulle nostre news Arrivederci Anche gli elefanti volano Le notizie non sono notizie Se riguardano la guerra e l'Islam Esagerazioni Bugie piccole e grandi Paura a go-go Giornali e giornalisti Come elefanti che scaricano escrementi sui cittadini Che la mangiano spesso e volentieri E sono convinti che sia cioccolata Anche gli elefanti volano Su Cosmo Radio Taurasi In studio Giovanni Sarubbi Sono milioni i passi delle persone che fuggono Come sono milioni i passi che vanno fatti verso di loro Perché non siano soli Io oggi sono la voce di uno e di tutti gli operatori umanitari Di medici senza frontiere Che camminano nei campi rifugiati in Kenya Dove migliaia di persone arrivano chiedendo da mangiare l'acqua da bere Che camminano al fianco di chi viene a chiedere una terapia Per sopravvivere all'AIDS dopo giorni di marcia sotto il sole Che camminano con chi cerca un posto protetto per sé E la propria famiglia in Pakistan E magari arriva dall'Afghanistan Fuggendo dalla guerra Io, l'operatore che arriva da fuori Da un altro continente Ho sempre creduto che parlando lingue diverse Sarebbe stato impossibile ascoltare le loro storie E capite fino in fondo Storie di traumi, di violenza Esperienze lontanissime Che ovunque siamo alla fine Ci portano a contatto con gli stessi dolori Dopo gli stessi dolori e feroci violenze Io che arrivo da lontano come loro Chiudo gli occhi e torno a casa quando ho paura Loro chiudono gli occhi e mi raccontano di chi le ha violentate Della bomba che le ha costretti a correre per ore Dell'onda d'acqua che in un attimo gli ha portato via tutto E alle volte tutti Della fame che gli divora i figli Dell'odore bruciante nella pancia del barcone Sono dolori che non si cancellano Ma che io sono lì per accompagnare Perché va fatto e perché io lo voglio fare Ci parliamo con un sorriso Una mano aperta alle braccia alzate A condividere che spiegarci il perché è impossibile Ma siamo lì insieme E insieme faremo un po' di strada Per far ripartire una storia Una vita diversa Senza la paura E senza scappare Medici senza frontiere 40 anni di azione umanitaria indipendente Continuate a sostenerci Medici senza frontiere Buonasera agli amici in ascolto di Cosmo Radio Taurasi Da Giovanni Sarubbi E da Esther Coppola Che con me conduce questa trasmissione Di anche Gli Elefanti Volano Abbiamo ascoltato lo spot di Medici Senza Frontiere Che ci ricorda come nel mondo ci siano le guerre Noi questa sera Nella seconda parte della trasmissione Parleremo di una guerra che sta andando avanti Oramai dal 1948 Quindi da troppi troppi anni Quella in Palestina Il primo intervento però riguarda Diciamo che è un prolungamento della trasmissione Della volta scorsa Di 15 giorni fa La volta scorsa abbiamo parlato Della questione delle donne nell'Islam Dopo qualche giorno è successo Un fatto sul piano nazionale Di cui hanno parlato a Iosa Tutti i maggiori organi di informazione E su questo fatto ho ricevuto Alcune email di proteste Che mi accusavano di essere settario Vedi non è vero quello che avete detto Le donne sono comunque maltrattate nell'Islam Che cosa è successo? Queste email mi hanno spinto Ad aprire questa trasmissione Su questa questione Che è un aspetto della guerra Perché l'Islam Come diciamo da sempre Nelle nostre trasmissioni E' uno degli argomenti Di questa dannata guerra Che va avanti da 15 anni Che cosa è successo? Una Un'adolescente Una persona Una ragazza Islamica Secondo i titoli dei giornali È stata picchiata Dalla madre Perché sarebbe andata Sarebbe stata scoperta Dalla mamma Dalla mamma Senza Senza il velo Immediatamente Diciamo Questa Questa ragazza Ha subito Diciamo Secondo i giornali Avrebbe subito Dei danni Dei danni fisici Si è rivolta Ai suoi insegnanti La mamma L'avrebbe minacciata Di riferire Il suo comportamento Al padre Che era furla Ragazza terrorizzata Ha chiesto Ha chiesto aiuto Ai suoi insegnanti I quali hanno Allertato I carabinieri Che poi A loro volta Hanno messo Messo sull'avviso Un giudice Un giudice Alla fine Questa ragazza E' stata tolta Alla mamma E' messa In una In una Struttura Protetta Con l'ipotesi Di abuso Dei mezzi Di correzione Sulla questione È intervenuta Addirittura Il presidente La presidente Perché è una Donna La Deborah Serracchiani Il presidente Della regione Friuli Venezia Azzurro La quale Ha dichiarato In Italia Si rispetta La nostra Legge E la religione Non si impone A bastonate Bene Questa Io voglio dire Immediatamente Subito Diciamo Per scomprare Il campo Da qualsiasi Tipo Di equivoco Nessuno Ma proprio Nessuno Anche la persona Che ha messo La più antipatica Al mondo Deve essere Picchiato Nessuno Deve essere Picchiato Né adulto Né Tanto meno Diciamo Minorenne Soprattutto Se è donna Quindi Scompriamo Il campo Da qualsiasi Equivoco Però Questa Questa Questo grande Cancan Che è stato fatto Su questa Questione Con intervento Addirittura Ripeto La 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 Presidente Della Regione Friuli Venezia Giuli Una serie Di Editorialisti Giornalisti E quant'altro Che hanno scritto Su questa Su questa Questione Dimostrano Ancora Una volta Come Se Un islamico Per caso Per sbaglio Per Commette Un Errore Questo islamico Viene Processato Seduta Stante Cioè Secondo il vecchio Detto Evangelico Noi siamo In grado Di vedere La pagliuzza Questa è la nostra società In grado di vedere La pagliuzza Che sta nell'occhio Degli altri Ma non vede La trave Che sta Che sta nel proprio Occhio E voglio citare Un Un articolo Pubblicato Manco a farlo Apposto Diciamo Sul Quotidiano Il giornale Affirma Di una Giornalista Diciamo Abile In queste cose Che si chiama Fiamma Nirestein Che Ripete I soliti I soliti slogan La violenza Contro le donne Musulmane Disprezzo Per il loro corpo La loro segregazione Devono essere Condannati Quindi Quello che Anche Il Anche il Tribunale Ha Qualificato Come Abuso Dei mezzi Di correzione Cioè Quello che Qualsiasi Genitore Italiano Ha fatto Magari Anche una sola Volta Nella propria vita Sbagliando Nei confronti Del proprio Figlio Viene Etichettato In questo In questo Modo Poi Continua A parlare Parla di Sequela Di omicidi Che segnano Il cammino Della Mancata Integrazione Bene In Italia Gli omicidi Che sono Avvenuti A danno Di donne Che vengono Dall'ambiente Diciamo Che possiamo Etichettare Con il termine Musulmani Sono Da dieci anni A questa parte Due Dico Due Uno Dieci anni fa L'omicidio Di Ina Un altro Più recentemente Un paio D'anni fa Una certa Sana D'Affari Due Due E ora Questo caso Di questa Ragazza Picchiata Dalla mamma Per motivi Che la mamma Stessa Dichiarati Giornali L'hanno Dichiarato Non ci azzeccano Nulla Con la Religione Allora Questa giornalista Fiamma Nelestan Concluda Il suo articolo Dicendo Nel nostro mondo Queste cose Non succedono Punto interrogativo Molto Meno E nessuno Osa Codificarle Come un diritto Bene Se voi andate Se voi andate Fate un po' Con la ricerca In internet Potete trovare Abbastanza Agevolmente Per lo meno Due dossier Sulle violenze Nei confronti Dei Bambini Dei minorenni Dei 18 anni Quindi Sia sui bambini Piccoli Sia sugli Adolescenti Uno Ad opera Del Cismai Che Sta per Coordinamento Italiano Servizi Contro Il maltrattamento E l'abuso All'infanzia E un altro Di Terdes Homs Che è un movimento Che da 50 anni È impegnato In prima linea Nella protezione Dei bambini Uno È del 2012 Quindi Di Quattro anni Fa Un altro È più recente Quello Di Terdes De Homs Del dossier Del 2016 Secondo Questi Due Dossier Secondo Questi Due Ricerche Fatte Da due Strutture Che si occupano Di violenza Ai bambini Nel Nostro Paese I minorenni Che sono Soggetti A violenza Ogni anno Sapete Quanti Sono Avete Un'idea Si parla Di Centomila Dico Centomila Bambini Centomila Minorenni Centomila Minori Età media Secondo Le analisi Di questi Due Centri Di ricerca Sette Anni Sette Otto Anni Soprattutto Donne Soprattutto Donne Italiane Presumibilmente All'ottanta Percento Cattoliche Che vengono Abusate In vario Modo Dallo Scappellotto Dall'ascolacciamento All'abuso Sessuale Alla cosa più grave L'abuso Sessuale Allora Una Dico Una Donna Una ragazza Che viene picchiata Da la mamma E Finisce Sui giornali Soltanto Perché È Una Famiglia Di Una famiglia Di origine Di origine Islamica Centomila Dico Centomila Bambini Minorenni Che in Italia Subiscono Violenza Ogni Anno Non Finiscono Sui giornali I giornali Non ne parlano Allora Se L'Islam È violento Nei confronti Delle donne Allora possiamo ben dire Che anche gli elefanti Volano Veramente lo possiamo ben dire No estere anche gli elefanti Volano Perché Cioè questi si accorgono Si accorgono Ma ci vuole della pagliuzza E non guardano E non guardano La trave che c'è Nel proprio occhio Beh non si può Non si può andare avanti In questo modo Assolutamente Non è Questo non è Questo non è Informazione Questa è Deformazione Della realtà Questa è Continuare A seminare Odio E violenza Nei confronti di persone Che non hanno Altra colpa Se non quella Di essere Nati In un paese Diverso dal nostro E di aver avuto Una cultura E una religione Diversa Dalla nostra Beh non crede Che di questo passo Questa nostra società Italiana In questo Stato Possa avere un grande Un grande Futuro Quindi Veramente facciamo Veramente diciamo Questo Quest'ulteriore fatto Che è successo Diciamo Conferma Il fatto Che la stampa Italiana Su queste cose È veramente Strabbica 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 Perciò Noi diciamo Veramente Anche gli elefanti Volano Allora Se è vero Che anche gli elefanti Volano E quindi La violenza Genera violenza Non si può Andremo a finire Sempre con Guerre E contro Guerre Ci saranno Sempre le guerre E non Di sicuro Non sarà colpa Dei musulmani Andremo a parlare Per cinque minuti Proprio Dalla guerra In palestina E ci addentriamo In questo tema Attraverso Una musica Una canzone Che tratta Di guerra In guerra In guerra Si spara E quindi Noi ascoltiamo I spari sopra Di Vasco Rossi Che è una canzone Basata Però su In realtà Su un'altra canzone Quella Dei Meno conosciuti Dei celebretti Degli Enemuscial Fish E Il singolo Di Vasco Raggiunge In pochi giorni 200.000 copie Poi viene subito Ritirato dal mercato Per poi Confluire Nell'album Omonimo Di Vasco Che è Il decimo album Uno dei più venduti Di sempre E che vende Un milione Di copie Ascoltiamo Gli spari sopra 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 Sono per noi Gli spari sopra di volare e fare credere, ma adesso state più attenti, perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra, sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra, sono per voi. Vogliate tenere sempre un piede qua e uno là, avrete un avvenire certo in questo mondo qua, però la dignità, dove l'avete persa. E se per sopravvivere qualunque porcheria, lasciate che succede, dite non è colpa mia. Sorridete, gli spari sopra, sono per noi. Sorridete, gli spari sopra, sono per noi. Sorridete, gli spari sopra, sono per noi. Ripigliamo la nostra trasmissione e parliamo in questa seconda parte della trasmissione di una guerra che va avanti oramai da quasi 70 anni, cioè la guerra in Palestina. Buonasera, abbiamo il piacere di avere con noi questa sera un esponente della comunità palestinese, Salame Ashur, che è il portavoce della comunità palestinese di Roma, che sta in Italia da moltissimi anni. Lo salutiamo, buonasera Salame Ashur. Buonasera Carlo Giovanni e buonasera ai vostri ascoltatori. Oggi è 9 dicembre, nel 1987, proprio il 9 dicembre del 1987, quindi 30 anni fa, circa 30 anni fa, dico bene, iniziava la prima intifada palestinese contro l'occupazione israeliana. La rivolta scoppiò nel campo profugo di Jabba Ligia e si estende velocemente fino a Gerusalemme. Le immagini di quella prima intifada dei giovani palestinesi che lanciano piede contro l'esercito israeliano fanno rapidamente il giro del mondo. È una ricorrenza brutta, tragica per i palestinesi. Noi vorremmo stasera cercare di capire un poco di più su questa questione, su cui ci sono fiumi di inchiostro, sono stati versati fiumi di inchiostro, sono stati scritti decine e decine e decine di libri. Fra questi libri voglio citare il libro di un amico, il cui titolo è Città Santa e la Cerata, Gerusalemme per ebrei, cristiani e musulmani, autore Luigi Sandri, mondieditore del 2001, che racconta la città di Gerusalemme, che è la città santa delle tre religioni monoteistiche. Ma noi vorremmo anche cercare di capire, in conclusione di questa chiacchierata che ci facciamo con Ashur, quali possono essere le conseguenze, quali conseguenze potranno esserci per la Palestina dalla elezione di Donald Trump, dalla elezione al Presidente della Repubblica di Donald Trump. Cito, fra le questioni che stanno venendo fuori in questo periodo di interregno tra Obama e Trump, l'aumento negli Stati Uniti degli episodi di islamofobia, quindi stanno aumentando in modo esponenziale gli episodi di islamofobia negli Stati Uniti, il che non lascia ben sperare, ovviamente. Allora, perché Ashur israeliani e palestinesi combattono? Questa guerra come è nata? Da dove è nata? Perché siamo ancora in questa situazione? L'olocausto è avvenuto negli anni 40, però il sionismo come concetto della strumentalizzazione di una religione, come il liberalismo di una tradizione, di una cultura, che aveva il disegno di unire tutti gli ebrei in un solo Stato, su un solo territorio, in tutti gli ebrei del mondo. Poi hanno scelto, hanno messo gli occhi sulla Palestina. Poi proposto a loro di fare questo progetto dai paesi coloniali anche in Tanzania, in Sud America, eccetera, in Argentina e hanno rifiutato. Volevano la Palestina. Loro in Palestina vivevamo in pace ebrei, cristiani, e musulmani. Quindi i ebrei erano il 4% della popolazione, i cristiani quasi il 10% e il resto erano musulmani. Ma tante volte non riuscivi mai a distinguere, non sapevi neanche la religione del tuo amico che puoi conoscere a scuola o altro. Ieri mi parlava un amico, dice, io ho saputo che un mio carissimo, un grande giornalista palestinese parlava della propria vita e diceva, io solo dopo la morte ho saputo che un mio carissimo amico, e lui aveva un giornale a Londra, e ho saputo che era cristiano solo quando è morto perché il funerale è stato fatto in chiesa. Non si chiedeva di credizione dei, chiedeva solo il comportamento umano, della solidarietà umana, della fraternità umana. Questo è il concetto che deve caratterizzare la vita degli esseri umani, perché siamo tutti, prima di essere cristiani, musulmani, ibrei, ati o qualunque cosa, siamo esseri umani. Ci sono dei valori che sono impressi, scritti nella natura umana, perché se noi tutti li rispettassimo sicuramente il mondo andrà meglio. Per realizzare il progetto delle organizzazioni ebraiche seuniste, hanno cominciato a fare giro sui politici del mondo, sono andati nello sultano ottomano anche a proporre di saldare tutti i debiti dell'impero ottomano che lui doveva cedere la Palestina a loro, che permettesse a loro di buttare gli ebrei dai paesi del mondo in Palestina, lui ha rifiutato. Quindi parliamo del 1900, del 1915, 14, 15? Anche prima, anche prima, questo movimento ha cominciato a essere vivo e vivace nell'Ottocento. Quindi il movimento sionista, tu mi stai dicendo che l'origine della guerra sta nel movimento sionista che è nato nel 1800. È così? Sì, sì, sì. Ma era un'idea che accarizzava alcuni menti, c'è stato anche prima di questa data qui. Però loro hanno cominciato a contattare i paesi coloniali, la Gran Bretagna che era la superpotenza, la Francia e altri paesi. E poi hanno aiutato la Gran Bretagna e hanno detto vogliamo la Palestina. Poi la Gran Bretagna era tutta l'aria, era un'aria unita, governata dall'impero ottomano. Quindi non c'era Palestina, Libano, eccetera. Come che dire? Lazio, Molise, la Pusco, eccetera. Questi stati sono nati dopo la fine dell'impero ottomano che è avvenuta dopo la prima guerra mondiale, giusto? Sì, nel 1915 la Gran Bretagna ha avuto il mandato dalle Nazioni Unite, Lega delle Nazioni, sulla Palestina. Sulla Palestina? E hanno cominciato a dividere il mondo arabo-islamico in piccoli stati, pure Iraq, Siria, Libano, Palestina, Giordania, eccetera. Governandoli, l'hanno divisi e ognuno ha colonizzato una parte, per esempio il Marocco, il Tunisia, eccetera, Francia, l'Iraq, Francia, l'Inghilterra, la Palestina, l'Inghilterra, la Giordania che non era ancora stato, l'Arabia Saudita, eccetera. E hanno cominciato a dominare, a governare di chi prese il colpo. E la Gran Bretagna, governando in Palestina, colonizzando la Palestina, ha cominciato a permettere alle organizzazioni ebraiche di portare gli ebrei in Palestina. E hanno cominciato a creare dei kibbutz per mettere gli ebrei dentro. Ma in verità i kibbutz e loro dicevano, ah, questa terra era deserto, è la venuta degli ebrei, la resa fertile, la resa fiorente, eccetera. In verità è tutto falso, perché chi studia la storia della Palestina, io ho dei video, anche delle fotografie che dimostrano quanto è fiorente era la Palestina come produzione agricola, come anche un foro culturale, era della letteratura, nel teatro, nel cinema. C'era una temografia negli anni del Novecento in Palestina, era di una famiglia cristiana che si chiamava Habash, che era in Jerusalem, eccetera. C'erano anche giornali, c'era il teatro a Jaffa. E non c'era, loro vogliono descrivere i palestinesi presentandoli come abitanti del deserto e i ebrei erano andati lì, se unisti, solo per civilizzare. Hanno reso il paradiso, il deserto, il giardino, il deserto l'hanno trasformato in giardino. Tutto falso è questo. Era il giardino anche prima della colonizzazione inglese, dell'arrivo. Molto prima era, molto prima, perché gli aranci, mandarini, pocomero, melone, eccetera, ancora si producono in Palestina. Olivo, e noi abbiamo gli olivi che hanno 4-5 mila anni in Palestina. Certo. E allora, loro hanno cominciato a cambiare l'equilibrio demografico in Palestina. E hanno cominciato a mettere i ebrei in queste piccole città che creavano, si chiamavano Kibbut, che in verità erano città militari dove addistravano, che venivano addistrati all'uso delle armi. Poi, in accordo con l'Inghilterra, quando erano già pronti per uscire fuori, l'Inghilterra ha finito su un mandato in Palestina nel 1947, già dagli anni 40, dopo anche la seconda guerra mondiale si programmava questo, e l'Inghilterra si è riterata passando gran parte delle armi che avevano a quelli che stavano nei kibbuti. Qualcuno che ha avuto la coscienza che si è sveviata di quelli che hanno compiuto i massacri dell'organizzazione ebrei che si unisse, ha scritto dei libri al riguardo, che avevano in progetto di attaccare i villaggi e le città palestinesi per cacciare via i palestinesi. Infatti, dopo l'uscita dell'Inghilterra noi abbiamo avuto più di 500 villaggi palestinesi distrutti, dove hanno compiuto grandissimi massacri paurosi che mettevano paura alla popolazione che abbandonava e andava in Campania, scappava in Giordania. E qui è iniziata la diaspora palestinesi che hanno cominciato a scappare in Giordania, in quella che si chiama anche adesso Cis Giordania. A Gaza il 60% degli abitanti della Gaza sono profughi della Palestina. della Palestina, intendevo Giaffa, Arrambla, Gerusalemme, Bettaembe, tutti questi villaggi. 500 villaggi distrutti e ancora i resti di questi villaggi sono lì, visibili. E sono stati massacri come il massacro anche di Deriafine e tanti altri. I palestinesi hanno cominciato a scappare fuori pensando che quando sarebbe calmata la situazione sarebbe tornata e non hanno mai potuto più tornare. Noi palestinesi siamo stanchi dell'attenzione, della violenza, della guerra. Noi vogliamo tornare a vivere in pace tutti quanti insieme, ebrei, musulmani e cristiani e dobbiamo e chiediamo che le risoluzioni delle Nazioni Unite riguardante il diritto al ritorno dei profughi palestinesi possa essere applicato. E non vogliamo che nessuno lascia la palestina, neanche gli ebrei. Possiamo vivere tutti insieme su quella terra. Come era prima dell'arrivo dei sionisti? Perché prima dell'arrivo dei sionisti... Non vogliamo neanche che gli ebrei nuovi che sono andati lì lasciano la palestina. vogliamo vivere tutti insieme. La palestina può avere capienza per anche svariati milioni di abitanti, ma siamo lieti di poter vivere insieme. Oggi oggi ci sono ebrei nella città di Nablus, nella città di Jerusalem, più di 5.000, addirittura rifiutano la cittadinanza israeliana, dicendo noi siamo palestinesi e vogliamo continuare a vivere come vivevamo prima della nascita dello Stato di Israele. C'erano francobulli, c'erano monete metalliche coniate con il nome della palestina. C'erano anche monete in carta, dove c'erano stazioni anche per ruviare, dove c'era scritto palestina. E questo è dalla storia, basta non cercare di falsificare la storia, non cercare di far finta, come diceva Golda Meir, i palestinesi sono gli ebrei. La nostra identità doveva essere cancellata, come se non ci fosse. E questo è odio, questa è discriminazione, questo è razismo. Dobbiamo rifiutare questo concetto, dobbiamo partire con il concetto che ogni essere umano ha il diritto di vivere dove nasce, ha il diritto di vivere, di farci la famiglia, di amare, di lavorare, di studiare, tutto quanto. Tutti abbiamo il diritto. E abbiamo il diritto di vivere in un clima di pace e di solidarietà umana, quello che oggi manca. Oggi la politica purtroppo sta uccidendo la nostra umanità, perché la politica dei grandi oggi, quelli che disegnano e decidono le sorti della nostra umanità, non seguono i valori, i principi sani, seguono solo l'interesse del denaro e di chi è il gruppo degli rubri. Sì, Ashur, scusami, allora cerchiamo di dire qualcosa in più sul sionismo, perché spesso chi parla contro il sionismo viene attaccato come, diciamo, sei antisemita. Io ricordo che ho partecipato nel 2008, qualche anno fa, a Napoli ad un incontro sulla Palestina, dove ha partecipato un rabbino ortodosso, il quale diceva, non ricordo il nome adesso, il quale diceva che tra sionismo ed ebraismo non c'è alcun rapporto, definiva il sionismo una, quindi questo era un rabbino ortodosso, me lo ricordo come ieri, definiva il sionismo come una ideologia nazionalista e criminale, che ha strumentalizzato l'ebraismo, ma che con l'ebraismo non c'anzicca nulla, diciamo. C'è un disegno politico di dominio, di controllo della vita e degli esseri umani. Una logica finanziaria è diventata fortissima che determina le sorti della nostra umanità e questo non lo vogliamo. Poi, quali principali, quale religione parlano? Se proprio c'è la prostituzione, la droga, gli scandali che escono oggi stesso, ieri, in questo mese, tanti scandali anche dei responsabili israeliani, addirittura scandali sessuali. Quindi i responsabili israeliani che negano nei fatti la Torah, diciamo, in effetti. Negano, ma certo, i valori fondanti dell'ebraismo. I valori spirituali che richiedono correttezza morale, richiedono onestà, richiedono lealtà, rispetto della famiglia, fedeltà. Non li rispettano. Vai in Israele a vedere come si vive. Quindi essere antisionisti, ecco il segnale che vogliamo dare. Essere antisionisti non significa assolutamente essere antisemite. Non ci azzecca proprio nulla. Noi valistinesi siamo semiti noi stessi. Voi siete i semiti veri, diciamo. Poi tutta la razza umana, i glomiani da Adamo e da Eva, non ci sono razzi. C'è una sola razza, è la razza umana. Sì, non possiamo dire che i musulmani rappresentano una razza, i cristiani cattolici una razza, o tutti un'altra, gli ebrei una razza. No. L'ebraismo era una religione aperta alla quale potevano appartenere a chi voleva. Addirittura nei paesi del centro-azio, nei paesi del Caucaso, nel Medioevo c'era un re che aveva abbracciato la religione ebraica, che non si chiamava neanche religione ebraica, perché il nome ebraismo è venuto durante i secoli, e che tutto il suo popolo poi ha abbracciato quella religione. Quel regno ha avuto una durata di quattro secoli. Quattro secoli. Addirittura nella encyclopedia ebraica si dice che il 72% degli ebrei attuali sono di origine caucasica, che non hanno mai visto, e i loro abbi non hanno mai visto la Palestina. Bene, allora, per concludere questa nostra... ovviamente non possiamo... potremmo parlare giornate intere su questa questione, e tu saresti sicuramente in grado di dirci tutto il possibile su questa questione. Ma io volevo chiederti, la domanda che volevo chiederti, diciamo, è questa. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti, che cosa, secondo te, dal tuo punto di vista, secondo la tua esperienza, dalle cose che senti in questo momento, in che cosa cambierà la politica americana nei confronti della Palestina e di Israele, in bene o in male? Ecco, questo vorremmo cercare... Mi concedi di dire una cosa, Marina? Sì, sì. E noi abbiamo fermato gli accordi di pace. E chi ha ucciso Rabin? L'hanno ucciso loro, gli estremisti loro, sono come lisi. E chi ha abbenenato alla pace? I fortori della pace. E chi ha disatteso e non ha rispettato la pace? E prevedeva il riconoscimento di Israele, il diritto al ritorno dei gruppi palestinesi, e la creazione di uno Stato palestinese sui territori occoglati nel 1967. Chi non ha rispettato questo? Sono Israele, che ha cominciato ad avere dei governi molto fanatici, molto estremisti, come Niteniaco. Niteniaco, la signora Rabin, ha ripintato di stendere la mano durante le condolianze per la morte di Rabin. E allora noi vogliamo la pace, abbiamo i cuori aperti, le braccia aperte per appogliere chi, abbracciare chi vuole fare pace con noi, chi vuole vivere in pace. Ma voler la pace non significa che io devo abdicare ai miei delitti. Non devo assolutamente accettare l'ingiustizia. Non devo lasciare la Palestina per essere facciato di non essere terrorista. La Palestina è la mia patria, io ho il diritto di vivere lì e non voglio il male a nessuno, ma non voglio che nessuno mi voglia male o mi faccia del male. però oggi stesso l'ex Presidente Carter ha invitato il Presidente Obama di riconoscere lo Stato della Palestina, che sulla carta è riconosciuto da quasi 140 paesi alle Nazioni Unite. Ma Israele rifiuta di ritrarsi da questi territori. e sta sempre oggi, io stesso, ieri, il Chienese ha diramato una risoluzione nella quale prevedeva l'intensificazione delle colonne nella città di Gerusalemme e creare nuove colonne, il che vuol dire distruggere distruggere i quartieri palestinesi. Le case palestinesi come fanno? Ogni giorno c'è sempre azioni diaboliche che cercano di mettere i palestinesi proprio di un digitale nell'inferno, perseguitando i bambini, le donne, gli uomini, negando il diritto anche allo studio. Dei nostri bambini tante volte devono portare la scala con loro per scavarcare il muro. E' il muro che hanno, il divisorio che hanno fatto e noi non abbiamo bisogno di muri, abbiamo bisogno di punti di pace. Dicevo, il muro, se loro veramente fossero sinceri che il muro l'hanno creato per proteggere Israele, perché hanno incorburato e hanno messo il muro non sui confini del 67, ma incorporando svariati centinaia di chilometri che devono appartenere allo Stato della Palestina. Quindi c'è la manama la fede. Quando dicono trattative, loro sono venuti sempre alle trattative e volendo prolungarli il massimo possibile, portarli fino all'infinito, continuando però con la loro perfida e forma politica, subito la politica, di confiscare sempre nuovi territori creando delle colonie considerate illittime da tutto il mondo. Io faccio appello prima di tutto agli ebrei, nostri fattori in questa umanità, di criticare, rifiutare il comportamento dello Stato di Israele. E noi sappiamo di stintere tra l'ebraismo come religione, come cultura, come tradizione, e fra il seronismo e fra Israele come Stato. è criticato come tutti gli stati del mondo. Bene, con questo appello e con questo appello di Ashur che facciamo completamente nostro, dobbiamo superare le barriere, i muri, dobbiamo fare in modo che le persone, in quanto persone, si parlino e parlandosi riescono a trovare la via della pace. Viva la pace, viva la nostra umanità e solidarietà al popolo palestinese e a tutti i popoli e a ogni essere umano che soffre. Bene, grazie di cuore Ashur per aver partecipato a questa nostra trasmissione. Contiamo di averti ancora con noi nelle prossime trasmissioni e ti salutiamo e ti ringraziamo augurando la pace, la pace, la pace. Grazie infinita, mi agonisco al vostro augurio rivolgendomi al Signore di donare saggezza, luce e pace ai nostri cuori e nella nostra umanità. Grazie infinita. Ciao, buonasera, buonasera. Ciao, 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 grazie, buonasera a tutti. Buonasera. L'amico Ashur ha parlato di razza, di razza, che ogni religione, il cristianesimo, il cattolicesimo, l'islam, non rappresenta la razza, la razza pura, infatti non c'è, non ci sono razze, o meglio, la razza è una sola, è quella umana. L'amico Ashur ha detto viva l'umanità e quindi ci colleghiamo a chi invitava a restare umani era, dico era, Vittorio Arrigoni, che è stato assassinato, per questo ho detto era, il 15 aprile del 2011. Ascoltiamo una canzone a lui dedicata di un grande artista che con la sua musica, con il suo santo, con le sue collaborazioni, invita a condividere, a unire le culture e non a dividerle, sto parlando di Inzavitabile. La canzone che ascolteremo stasera è tratta da Salvamo Munno del 2004 e vedo la collaborazione di Bottari di Portico e di una splendida voce, quella di Amal Murkus, Ascoltiamo, Canta Palestina. Com'è so'va d'estella che Can da palestin Can da spalanz Ege speranza gamp Risperado non more Io mi majoro Alessia palestin Io mi majoro come sono fusi giù a Bettelema, come sono fusi giù a Bettelema, come sono fusi giù io sono la luna m'aschinego l'ur, o sono la luna m'aschinego l'ur, o sono i alun e canta, 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 canta col tambur, e canta, 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 canta palestino Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta balestit Canta, canta Esperanta Esperanta No mor No mor Canta balestit Grazie a tutti Bene, allora siamo in chiusura della nostra trasmissione, annunciamo che la nostra prossima trasmissione sarà il 23 dicembre, l'antivigilia di Natale e parleremo di un argomento natalizio, parleremo di Maria e Gesù nell'Islam. Avremo con noi una sorella musulmana che ci racconterà questa visione, la visione musulmana di Gesù e di Maria che sono persone molto ma molto venerate nell'ambito dell'Islam. E chiudiamo invece con una canzone di pace a tutti nota. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones del 1966, questa è la celebre da Gianni Morandi, però l'ascoltiamo stasera in una versione particolare, cioè cantata dal suo vero autore, Mauro Losini. Rilanciamo il nostro hashtag, il nostro slogan, il nostro slogan, che la razza non c'è una razza, se c'è una razza allora significa che gli elefanti volano, possono volare anche gli elefanti, la razza non c'è e gli elefanti non volano. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé, aveva mille donne, cantava Help, Ticket to Ride, o Lady Jam, o Yesterday, cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò un richiamato in America. Stopp, 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 stopp C'era un ragazzo, che come me, amava Bito, c'ero l'Istons, girava il mondo, e poi finì, a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi, non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà, la stessa nota, tra-ta-ta-ta, non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam, stop, ho i Rolly Stones, stop, ho i Beatles, stop, nel petto un cuore, più non ha, ma due medalje o tre. Sous-titrage ST' 501 Amici all'ascolto, siamo alle news di venerdì 9 dicembre. Le basse temperature notturne hanno causato disagi lungo le strade collinari dell'Irpinia, persino sui binari, nella tratta che interessa il territorio di Ariane Irpino. Un treno Merci, proveniente da Roma e diretto a Melfi, è stato costretto a rallentare la sua corsa, proprio causando ritardi alle corse dei treni dei pendolari. Un'azienda per la produzione di acido citrico, dichiarata fallita nel 2002, è stata sequestrata dai carabinieri su ordine della procura di Avellino, che ha notificato informazioni di garanzia a quattro amministratori, che rifiutavano di effettuare rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati all'interno dello stabilimento nell'area industriale dei Calitri. Ladri in azione durante il Ponte dell'Immacolata, a Paternopoli, a Montoro, dove sette persone, di Salerno e Napoli, sono state bloccate e allontanate con foglio di via, persino nella chiesa del Santissimo Rosario a Mirabella e Clano, qui hanno rubato un crocifisso in metallo posto sull'altare e un cuore con spada in ottone dalla statua di Maria Santissima Adolorata. Il gruppo di giovani ideatori e realizzatori del tour Il Pino Irpino ha vissuto, anticipando la tappa finale del progetto di quest'anno, la giornata dell'Immacolata a Castel Sant'Angelo sul Nera, il percorso all'obiettivo di finanziare la ricostruzione di un bene di pubblica utilità nel paesino marchigiano terremotato. E continua a tremare l'Appennino. Un sisma di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 8.21 a 8 km di profondità, epicentro localizzato fra Villa Minozzo, Reggio Emilia, e Frassinoro, Modena, e avvertito in tutta la fascia appenninica, fino in Toscana. Ieri una scossa di magnitudo 3.7 si è verificata alle 22.21, al confine fra Abruzzo e Marchi, epicentro localizzato su Valle Castellana, in provincia di Teramo. Dopo oltre 5 anni di indagini e decine di consulenze tecniche, è stata archiviata a Bologna l'inchiesta sulle frane nelle aree appenniniche interessate dagli scavi per realizzare le gallerie della variante rivalico dell'autostrada A1, opera inaugurata a dicembre 2015. L'indagine era nata nel 2011 dalle denunce di un comitato di residenti nella zona di Ripoli, nel comune di San Bellietto Val di Sambro, che avevano segnalato danni alle proprie abitazioni in concomitanza con i lavori per l'autostrada, che varia il tracciato tra Bologna e Firenze. Abbiamo concluso anche per questa edizione. Buon proseguo con i programmi di Cosmo Radio Taurasi. Tutto lo staff di IlMeteo.it vi augura di trascorrere un bel weekend. Previsioni per sabato 10 dicembre 2016. Bel tempo generale, ma nebbia al nord, cielo poco parzialmente nuvoloso invece sul resto del paese. Ecco il dettaglio elaborato da IlMeteo.it. Al nord foschie e nebbie, spesso per tutto il corso della giornata in pianura. Cielo più coperto sulle coste friulane, ampio soleggiamento invece sui settori alpini e prealpini. Spostiamoci al centro, nebbie in Toscana e Umbria. Bel tempo invece sul resto delle regioni. Raggiungiamo infine il sud. Qualche foschia mattutina. Sul Gargano qualche addensamento in Sicilia e sul resto del Salento, ma innocuo. Per il resto, bella giornata di sole con cielo poco nuvoloso. I venti saranno a prevalente direzione settentrionale. Concludiamo con le temperature previste per questa giornata. Le minime risultano essere più o meno stazionarie, valori compresi tra meno 3 e 13 gradi su tutte le regioni. Di giorno invece prevediamo 3-14 gradi al nord, 6-13 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud. Ilmeteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, così da rimanere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci! A tutti coloro che ci hanno ringraziato con un sorriso. A coloro che ci hanno amato e che ci hanno regalato momenti indimenticabili. A tutti coloro che come noi si sono sentiti top and cool. Vi auguriamo un Natale sereno e felice e che tutti i vostri sogni possano realizzarsi. Tanti auguri di Buon Natale da Francesco Ricca e Angelita Ciccone. Ciao! 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 Cosmo Radio Taurasi presenta Le stelle di Hollywood, le storie, gli aneddoti, gli artisti, le passioni dello spettacolo più bello del mondo, il cinema. In studio Arturo Capone. Pelle è la tua, proprio quella che mi manca, in certi momenti e in questo momento è la tua pelle ciò che sento, nuotare. Nell'aria Odori dell'amore nella mente, dolente, tremante, ardente. Il cuore domanda cos'è che manca, perché si sente male, molto male, amando, amando, amandoti ancora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un grammo di gioia del tuo sorriso e non mi basta nuotare nell'aria per immaginarti se tu sapessi che pena. Intanto l'aria intorno è più nebbia che altro, l'aria è più nebbia che altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sentirti piangere anche una lacrima per pochi attimi. Mi piacerete, sai, sentirti piangere anche una lacrima per pochi attimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, benvenuti, bentornati, buonasera a tutti per questa nuova, nuovissima puntata di Le Stelle di Hollywood. In studio è Capone Arturo qui presente e in regia il caro e carissimo Capo Davide, sempre attivo, sempre presente. L'applauso se lo stramerita, se lo stramerita proprio. Ma che cazzo stai a dire? Ecco, ti pareva che non si smentisce mai, lo vedo tranquillo, lo vedo rilassato, dai. Raga, fuori fa freddo. Che si può fare quando fa così freddo o si resta in casa e ci si riscalda con un buon film, un whisky o birro o quant'altro. Oppure si esce e si va al cinema. Che altro si può fare? Minchè si può andare sempre al solito pub, al solito locale, soprattutto il venerdì sera. E quindi, come dire, consigli per gli acquisti, anche se decisamente questi acquisti, come dire, languono la stagione cinematografica, diciamo che è abbastanza carente, abbastanza triste. Almeno dal mio punto, modestissimo punto di vista, mettiamola così, avrete imparato insomma a conoscermi in questi mesi. avrete capito che non è che sono un particolare amante di commediole pseudo-leggeri, leggerissime, quasi effimere, mettiamolo così, quasi troppo sottili, troppo banali, troppo scontate. Però è ovvio che mi corre l'obbligo di informare i miei radioascoltatori riguardo agli ultimi film in uscita e non posso evitarlo. Giusto una breve presentazione del pezzo che abbiamo sentito, che fa comunque parte della colonna sonora di un film, era Notando nell'aria, di un gruppo italiano, molto italiano, purtroppo è rimasto, dopo un primo successo, proprio in questo, 20 anni fa, perlomeno, sono un po', come dire, spariti dalla circolazione per poi ritornare l'anno scorso, due anni fa, insomma, un po' alla ribalta, ma senza, come dire, gli eccessi mediatici, senza la sovraesposizione, senza il successo di una volta. Questi erano i Marlene Kunz, dopo magari mettiamo qualche altro pezzo del, se non ricordo male, deve aver messo qualche altro loro pezzo. E faceva parte di un filmettino, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, tratto dal libro che 20 anni fa ebbe un gran bel successo, parlando di metà anni 90. Il film uscì, se non mi sbaglio, tra il 97 e il 98. Il libro l'ho consumato, appartiene ai miei ricordi di adolescente, insomma, anche perché parla proprio di quello, del romanzo di formazione, di crescita di questo tardo adolescente, che era appunto Alex, ambientato a Bologna, nel liceo bolognese, che aveva vissuto, insomma, il libro comincia dalla fine, mettiamola così, quando il rapporto con questa ragazza ormai era praticamente tramontato, perché lei era andata a vivere per un lungo periodo negli Stati Uniti. E di questo, insomma, parla il film, dell'amore piuttosto leggero ed effimero, brevissimo, di questi due tardo adolescenti. Invito tantissimo a leggere il libro di Brizzi, invito tantissimo, un po' di meno, diciamo così, a vedere il film, niente di particolarmente straordinario, però io ci sono rimasto legato per motivi del tutto intimi e personali. Qualcuno magari potrebbe trovarci qualche spunto interessante, direi di citare anche un po' la colonna sonora, con pezzi di Marlene Kunz, di tanto, un po' di punk anni 70, o post-punk anni 80, insomma, c'è qualche spunto, qualcosa di carino ci sta, c'è un giovanissimo Stefano Accorsi, splendido e straordinario nella parte del protagonista Alex, e c'è un'ancora più splendida, giusto per par condicio, mettiamola così, di Violante Placido, la figlia di Michele Placido, che se non mi sbaglio era proprio esordiente al 100%, forse in questo film, se non ricordo male. Comunque sono una coppia assolutamente fantastica, loro funzionano in maniera straordinaria, e c'è qualche buona emozione, qualche guizzo, qualche tocco di classe, ma non è un film da ricordare perché è particolarmente interessante. Detto questo mi comincio a fare, insomma, questa piccola escursione, diciamo così, questo sguardo sugli ultimi film in uscita, e come al solito purtroppo la situazione non è particolarmente esaltante. Ci sono una marea di commediole, come è ovvio, naturalmente siamo sotto a Natale, quindi i cine panettoni, ormai siamo abituati a sentire questa definizione da anni, coniata, forse un po', come dire, faccio una piccola, bah, così polemica, volere, come dire, indorare un po' la pila, la mettiamola così, non stiamo parlando di film che ormai hanno fatto con il loro tempo, come sappiamo, la coppia storica si è sfasciata di Massimo Boldi e Christian De Sica, hanno cominciato a fare i film per i fatti loro, Vincenzo Salemme, dopo L'Amico del Cuore, il suo primo, primissimo lungometraggio che, sì, devo dire, l'ho apprezzato, è abbastanza divertente, mi capita di rivederlo ed è abbastanza carino, si è decisamente perso. Poi raccione, non ne parliamo proprio, a parte i suoi primissimi straordinari successi, almeno al botteghino, non certo, come qualità o altro, si è decisamente smarrito anche lui a fare filmucoli, come dire, inventati praticamente, girati in una decina di giorni, non di più, senza una particolare cura per il dettaglio. C'è stato, e qui veniamo a noi, c'è stato questo Luca Miniero, che un po' si è imposto qualche anno fa, producendo questi Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, e ha ottenuto un successo, come sappiamo, assolutamente straordinario. Chi non ha avuto modo di apprezzare la coppia d'oro ormai del cinema, forse questa nuova coppia comica che si è imposta moltissimo, cioè di Alessandro Siani e di Claudio Bisio. Claudio Bisio è appunto il protagonista di questo film, è uscito l'altra sera, giovedì, 7 dicembre, no, mercoledì 7 dicembre, non c'è più religione, il regista, come appunto abbiamo detto, quindi Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, e una marea di attori di grida, insomma, si ritrovano in questo film. Stiamo parlando a parte di Claudio Bisio, Alessandro Casma, Langella Finocchiaro e altri, un comico più o meno noto, più o meno conosciuto come Giovanni Cacioppo. La trama del film, andiamo alla trama, quanto di più semplice si possa immaginare. Detta in pochissime parole, c'è questa isoletta del Mediterraneo, la location a quanto pare, da quello che ho letto, mi sono informato, è tra le isole Tremiti, Siponto e Monte Sant'Angelo. Nel film è un'isoletta, il nome inventato, Porto Buio, e governata, insomma, questa piccola comunità che vive su quest'isola, c'è appunto Cecco, Claudio Bisio, che è originario del posto, ma poi emigrato al Nord. C'è un problema in questa comunità, il presepe, praticamente gli abitanti sono pochi e tutti quanti praticamente adulti, c'è stato un calo vertiginoso nelle nascite, ed è questo, diciamo, una sorta di spunto polemico che dà vita alla trama, al film, allo svolgimento della vicenda. Non c'è nessun bambino del posto italiano, insomma, disposto, disponibile, anzi, mettiamola così, a fare Gesù Bambino nelle presepe vivente, che è un po', come dire, l'unica attrazione turistica di questa piccolissima isola, di questa piccolissima comunità. Che cosa si fa? un altro spunto, come dire, semi-polemico, è il fatto che praticamente ormai le nostre isole, cioè le nostre cittadine, sono invase dagli immigrati, e c'è una comunità musulmana piuttosto sviluppata in questa isola, appunto, ricchissima di bambini. Insomma, questi sono i personaggi che cominciano a interagire naturalmente. Tra loro parliamo di questo Bilal, interpretato da Gasman, loro amica di vecchia date, che in pratica si è convertito di recente all'Islam. Praticamente niente, da come si può immaginare, era come ideola molto leggera, molto piacevole, anche lo spunto che dà inizio alla vicenda, questa cronica, ormai mancanza di bambini, di neonati, insomma, questo crollo vertigioso che c'è stato di nascite, potrebbe costituire una sorta di spunto, di volontà di denuncia, ma in effetti, come si può immaginare, resta molto sullo sfondo, perché quello a cui più bene dato è in risalto, è la vicenda agrodolce che anima, insomma, questo film, che dovrebbe essere, insomma, chiaramente divertente, piacevolissimo, gli attori sono ultranavigati, Claudio Bisio farà sicuramente la sua straordinaria figura, perché, come sappiamo, anche Angela Finocchiara ha fatto la moglie di Bisio nei due film che abbiamo appena citato, e potrebbe anche addirittura distinguersi, ma con molta difficoltà, direi dai classico cinepanettone, a cui siamo straabituati, targato Christian De Siga, Massimo Boldi, Salemme, e quant'altro. Però, dalle critiche che ho letto un po' in giro, il film dovrebbe arrancare abbastanza, e c'è qualche battuta carina, il classico finale, alla Volemo Sebbene, il classico lieto, letissimo finale, quindi non ci possiamo aspettare niente di particolarmente straordinario. Fatta questa lunga presentazione, mandiamo un po' di musica, lasciamo a Davide, come dire, l'incombenza di scegliere un pezzo, dai, non c'è problema stasera. A tra poco. You're tearing me apart, Crushing me inside You used to lift me up Now you get me down If I was to walk away From you my love Could I laugh again? Again, 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 You're killing me again Am I still in your hair? You used to light me up Now you shoved me down Now you shoved me down Now you shoved me down If I Was to walk away From you my love Could I laugh again? If I was to walk away If I was to walk away From you and leave my love And leave my love Could I laugh again? If I was to walk away And leave my love Grazie a tutti. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ...... ...... ......过... ...1...... Previsioni per sabato 10 dicembre 2016. Bel tempo generale ma nebbia al nord, cielo poco parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord foschie e nebbie spesso per tutto il corso della giornata in pianura. Cielo più coperto sulle coste friulane. Ampio soleggiamento invece sui settori alpini e prealpini. Spostiamoci al centro. Nebbie in Toscana e Umbria. Bel tempo invece sul resto delle regioni. Raggiungiamo infine il sud. Qualche foschia mattutina. Sul Gargano qualche addensamento in Sicilia e sul resto del Salento ma innocuo. Per il resto bella giornata di sole con cielo poco nuvoloso. I venti saranno a prevalente direzione settentrionale. Concludiamo con le temperature previste per questa giornata. Le minime risultano essere più o meno stazionarie, valori compresi tra meno 3 e 13 gradi su tutte le regioni. Di giorno invece prevediamo 3-14 gradi al nord, 6-13 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud. Ilmeteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook così da rimanere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci. Mettetevi comodi amici, su Cosmo Radio Taurasi sta per iniziare Strumenti e Contorni, la quintessenza della musica. Conduce Cosimo Cucillo. Mettetevi comodi amici. Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco. Vestiti tutti uguali. Vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. 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 È proprio vero, è proprio vero, il motto è sempre lo stesso. Buonasera, buonasera, benvenuti alla puntata numero 11 di Strumenti a Contorni, la quintessenza della musica, qui dagli studi di Cosmo Radio Taurasi. Buonasera da Cosimo Puccillo in voce e da Davide Annuzzo alla regia che muove i bottoncini per noi. Amici ben trovati, bentornati, grazie per avermi ospitato anche questa sera nelle vostre case, grazie per essere all'ascolto di strumenti a contorni. Davide, quante cose in questo periodo, in questo tempo, tra tutte la più rilevante è sicuramente questa espressione di voto popolare, referendum sì, no, ne abbiamo discusso tanto anche qui dagli studi di Cosmonagio Taurasi. E' successo un po' di tutto, insomma, chi ha vinto, chi ha perso, non lo so, forse tutti hanno vinto e tutti hanno perso, intanto per la cronaca hanno superato lo scoglio in o, per cui sembrava che tutto dovesse restare immobile, invece in realtà sembra che di sicuro, ed è questo anche cronaca, sia aperta una crisi di governo, sperando, insomma speriamo adesso che si possa mettere a posto un po' di cose. Quindi è il momento dei bilanci, tutti sembra che abbiano vinto, tutti sembra che abbiano perso, ancora non si è capito, noi siamo qui affacciati alla finestra ad attendere prossimi sviluppi. Intanto siamo a strumenti a contorni, questa sera dedicata al violino, puntata numero 11, quindi nuovo strumento, la trasmissione, lo sapete, in cui lo strumento, il piattoforte e tutto il resto fa da contorno, ma è anche un buon pretesto per parlare e ascoltare musica, come sempre, come sempre una playlist ricchissima, raffinatissima, come si diceva questa sera imperniata intorno al violino. Voglio cominciare subito, come già è capitato l'altra volta, col parlarvi dello strumento, subito, così, direttamente, brutalmente. Allora, questo violino, che cos'è? È uno strumento musicale della famiglia degli archi, questo lo sappiamo, dotato di quattro corde. Si tratta dello strumento più piccolo e dalla tessitura più acuta tra i membri della sua famiglia, quindi tra gli archi. È nato in Italia, forse, più di 500 anni fa, a Cremona, questa dovrebbe essere la terra natale di questo strumento. Nasce proprio dalle mani di artigiani esperti, in seguito a ricerche empiriche che sono durate sicuramente anni, se non secoli. Prende lentamente la forma che conosciamo oggi, molto lentamente, come è naturale, come spesso accade. Deriva da strumenti antichi come il Rebab, introdotto in Europa dai Mauri, nell'VIII secolo, più o meno. Partendo da questi strumenti primitivi, si svilupperà appunto il Ribeka, che è un altro discendente del violino progenitore, più che altro del violino. La Giga, e poi la Viola da Braccio, che sembra essere proprio quella più vicina all'odierno violino. È nel dicembre però del 1523, quindi una data molto molto precisa, che troviamo nel registro della tesoreria di Savoia la parola violino scritta per la prima volta. Grazie proprio, come si diceva, al lavoro di bravi artigiani del Medioevo e poi del Rinascimento, si raggiunge insomma un equilibrio tra forma e sonorità. Chiariamo subito un primo concetto. Il violinista è colui che suona il violino, quindi che suona il suonatore dello strumento. L'artigiano che lo costruisce e lo ripara è invece il liutaio, che si estende non solo ovviamente ai costruttori di violini, ma in genere agli strumenti, costruttori di strumenti a corda. Il più noto violinista di tutti i tempi fu un italiano, quindi l'Italia vanta questo primato, e fu Niccolò Paganini. Lui nasce intorno al 1700, fine 1700, e va via e ci saluta intorno alla metà del 1800. Anche molti tra i liutai più famosi ed apprezzati nel mondo sono italiani, quindi è ancora un merito alla nostra Italia. Tra questi ricordiamo Antonio Stradivari, sicuramente molti di voi ne avranno sentito parlare. Le sue creazioni sono tra i pezzi più pregiati, gli strumenti più pregiati. Sicuramente da ricordare anche Giovanni Paolo Maggini, Giovanni Battista Guadagnini, ce ne sono tantissimi. Ma anche la dinastia degli Amati e dei Guarnieri, insomma, hanno giocato un ruolo importantissimo nella realizzazione e costruzione di questo strumento. Intanto vi voglio presentare lo strumento. Come è fatto? Beh, essenzialmente è costituito da una cassa armonica e da un manico innestato proprio nella parte superiore della cassa. Tutte le parti, normalmente, diciamo la stragrande maggioranza, sono in legno. La cassa armonica dello strumento è a forma curva e anche molto complessa. Ricorda abbastanza la forma del numero 8, insomma, non so se riuscite a focalizzarla, ma, insomma, sicuramente molti di voi avranno avuto modo di vedere, apprezzare e ascoltare il violino. È costituita, appunto, questa cassa armonica da una tavola, appunto, armonica, detta anche piano armonico, e in genere realizzata di abete rosso e da un fondo, generalmente, invece, realizzato in acero montano, uniti da fasce in legno d'acero curvate. Sia la tavola che il fondo possono essere formati da un unico pezzo di legno, ma molto più spesso sono composti da due pezzi affiancati. Le fasce vengono proprio modellate a caldo con un apposito ferro. Insomma, la realizzazione del strumento è molto, molto complessa. Sia fondo che piano armonico sono convessi e di loro spessore varia dal centro dei due piani verso proprio il bordo esterno. Guardate, le elaborate curvature vengono ottenute con un lavoro estremamente, come dire, accurato, da certosino proprio, un lavoro addirittura quasi da scultore, cioè fatto completamente a mano. Quindi la realizzazione dello strumento è davvero complessa. Da qui proprio la complessità appunto nella realizzazione e un ottimo strumento, un ottimo strumento potrà essere realizzato solo da un grande, da un grande liutaio. Vi abbiamo cominciato, come dire, ho cominciato a presentarvi lo strumento. Adesso direi di ascoltare anche questo strumento. E come spesso accade, qui a Strumenti e Contorni, qui a Cosmo Radio Taurasi, cominciamo proprio in maniera trasversale. Vi lascio a Vivaldi una parte dell'inverno primo movimento. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Sei felice. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. è necessario. mettere a tutti. a tutti. un prodotto. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. ci siamo. vicino. sto cercando. sto cercando proprio a tutti. 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 Cosimo. a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.